Allora, Achille Zaino, videomaker e soprattutto una delle due anime di questo record, missione spaziale per raggiungere i 50.000 metri di altezza con questo pallone sonda, ma domanda d'obbligo, da dove nasce questa follia? Se è una follia? E poi soprattutto che cosa vuol dire per uno che fa immagini, che cattura immagini, avere a disposizione queste immagini qua? Guarda, sostanzialmente nella vita realizzo tantissimi filmati con il drone, quindi sono quasi sempre abituato ad avere immagini dal cielo. Un giorno mi è venuto conosciuto Simone, che è un matto come me, e mi ha detto, ma quanto può andare alto un drone? Io gli ho detto, ma al massimo 500-600 metri, ma andiamoci una sonda a 50.000, questo è per scherzo, questo progetto, lui è un pazzo visionario, gli ho messo a disposizione le mie competenze tecniche a riguardo del video, lui sulla tecnologia e abbiamo costruito questa sonda per andare nello spazio. Ecco, però, avere a che fare, la prima volta che hai visto queste immagini dove si vede proprio la curvatura del nostro pianeta, che emozioni ti ha dato? Mi sono messo a piangere, perché vedere dove siamo non ti rendiamo conto del nostro pianeta finché non lo vedi con i tuoi occhi, le immagini che vedi in televisione sono sempre immagini fatte da altri. Quando abbiamo visto le nostre siamo rimasti a bocca aperta, perché è qualcosa di incredibile. Speriamo di ripeterci anche oggi. Simone, Polito è l'anima tecnologica e scientifica di questo record, esperimento, pazzia, come vogliamo chiamarla? Più che pazzia è un record, perché comunque fortunatamente nel 2015, quando abbiamo fatto il lancio io e Achille, siamo riusciti a raggiungere questa quota stratosferica veramente che non pensavamo neanche di poter raggiungere. Quella che riguarda nella giornata odierna, la missione di oggi sarà un pochettino diversa per quanto riguarda le condizioni meteorologiche che sono leggermente sfavorevoli rispetto a quell'episodio. E siamo in estate, proprio per il fatto che i gas si dilatano, si espandono molto prima, quindi la quota è molto più bassa e quando arriveremo a una quota di 35-38 mila metri abbiamo già quasi l'espansione massima del pallone, quindi difficilmente raggiungeremo la quota del 2015, però ci proviamo. Diciamo che siamo molto ottimisti. Vi chiedo una cosa particolare, dentro questa sonda ci saranno così idealmente due espressioni del territorio, qui siamo da Santo Stefano Belbo, zona di Moscato e di Nocciole, quindi ci saranno queste due cose, l'asti secco e la nocciola. È un abbinamento che secondo voi sia in scienza ma anche territorio? Sì, diciamo che quest'anno abbiamo colto la palla al balzo per quanto riguarda il nostro sponsor locale e appunto abbiamo accolto la sfida a pieni voti e vogliamo mandare nella stratosfera questo goccio sorso, 30 ml di asti secco e al recupero nel momento del recupero, vedere la reazione che hanno avuto le bollicine proprio man mano che sale, quindi si sgasa e perché no, è verlo. Achille Zaino, il prossimo sogno? Non lo so, ne ho avuti esattamente tanti che ho realizzato, non lo so, il prossimo sogno è quello che inventeremo questa notte. Perfetto.